Sono ovviamente felice per quanto fatto in partita. Abbiamo giocato un gran primo tempo, abbiamo tenuto bene il pallone, siamo riusciti a creare tante occasioni e abbiamo sempre dato l'impressione di controllare la gara, per cui sono davvero contento. A fine primo tempo ci siamo detti che solo un 3-0 avrebbe potuto mettere la partita al sicuro, ma quando loro hanno fatto il 2-1 è cambiato tutto quanto, è diventato tutto più difficile. La partita credo sia stata molto simile a quella di Old Trafford, dove abbiamo giocato un ottimo primo tempo in fase di possesso palla, ma nel secondo poi è venuta fuori di più la voglia di difendere e di mantenere il risultato. Questa è una vittoria importantissima per i giocatori, soprattutto in chiave Europa League. Una delle nostre gare migliori è stata quella contro l'Aston Villa dopo essere tornati da Atene alle 4 del mattino. E così anche questa vittoria è stata importante. Vogliamo rimanere in alto, sfruttare anche gli scontri diretti di oggi in campionato. Importante quindi è stato vincere oggi qui a Southampton e provarci anche a Wigan, prima delle sfide contro Manchester City e Arsenal, che sarà una settimana chiave per noi. che abbiamo avuto a Southampton e a Wigan, prima di andare a Man City e Arsenal, che può essere un'importante per noi.